Urlava ti ammazzo, se non fosse intervenuta la collega non so che fine avrei fatto. Questo è il racconto dell'assistente sociale aggredita dalla furia di un padre a colloquio protetto con le figlie minori, allontanate dalla casa familiare. In assessorato alle politiche sociali del comune di Lanciano c'è ancora del sangue sulla porta e sul muro, contro cui la donna è stata violentemente picchiata, attestate, calce alla pancia e pugna al volto. Un occhio tumefatto, policontusioni, la prognosi di 20 giorni per trauma cranio-facciale, secondo il referto del pronto soccorso di Lanciano, dove la donna è stata medicata assieme all'altra assistente, intervenuta per soccorrerla e picchiata anche lei, con pugni, la sua prognosi di 10 giorni. Lavoriamo in trincea, commenta il giorno dopo l'assessore Dora Bendotti, psicologa, raccontando di altri episodi a rischio avvenuti all'interno degli uffici, come anche un altro episodio di aggressione commesso nel 2016 da una donna alla quale era stata tolta la figlia minore. In questo momento di crisi economica bisognerebbe potenziare i servizi, invece di tagliare i fondi, commenta l'assessore. C'è bisogno di sicurezza, ma non perché siamo 10 donne a lavorare in questi uffici, spiega ancora la Bendotti, ma perché si è perso il senso del rispetto per le persone e le istituzioni. Rastrellando fondi in assessorato è stata presa in servizio a una guardia giurata nel 2017, ma soltanto per due mesi. Adesso non si può più rinviare, c'è bisogno di sicurezza, sia per chi lavora, sia per l'utenza. Sinceramente io sono dispiaciuta, ma anche arrabbiata con tutto il sistema, perché oggi io sono qui anche a chiedere una collaborazione, un aiuto un pochino più concreto da tutte le istituzioni preposte, anche alla sicurezza pubblica. Noi la mattina veniamo qui per svolgere una funzione pubblica, siamo a disposizione di tutte le persone, soprattutto le persone bisognose, ma questo non dà il diritto, non giustifica atti di violenza inaudita come anche quello di ieri pomeriggio, che credetemi è stato veramente anche a livello emotivo forte da gestire. Quindi io mi appello a tutti coloro che possono intervenire sotto questo punto di vista e soprattutto cominciare a dare il giusto valore alle politiche sociali, cominciare a capire che le politiche sociali sono il fulcro dell'intera comunità e quindi vanno tutelate, vanno protette e soprattutto va anche protetto l'utenza che viene qui e che si rivolge quotidianamente. Quindi la mia è un richiamo alla responsabilità generale, abbiamo bisogno di lavorare in sicurezza, abbiamo bisogno di essere serene e tranquilli nel svolgere in maniera concreta e serena appunto le nostre funzioni pubbliche.